Tempi maturi per il ritorno delle autostrade a 24 e a 25 a strada dei parchi del gruppo Toto. Per il governo è l'unica strada percorribile e questa oggi si ratifica al Consiglio dei Ministri. Il presidente di strada dei parchi Cesare Ramadori ha rilasciato una lunga intervista al centro spiegando che la società ha pagato un prezzo alto per il braccio di ferro tra il Ministero e l'ANAS. Per Ramadori il risultato è stato, oltre al danno d'immagine, per la società, che l'Abruzzo ha dovuto attendere un anno per l'apertura di importanti cantieri senza pensare al lavoro dei dipendenti senza certezze. Da un anno la gestione delle autostrade è in mano ad ANAS dopo che il governo Draghi tolse la gestione alla società strada dei parchi. I fatti però nel tempo hanno dato ragione alla società. Prima lo hanno fatto i tribunali dell'Aquila e Teramo che hanno escluso di fatto la mancata manutenzione ai rischi per gli automobilisti e poi il governo Meloni che ha riconosciuto alla società un anticipo del risarcimento danni. In tutto questo però c'è la battaglia portata avanti dagli amministratori di Lazio e Abruzzo. A loro non interessano gli interlocutori. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo in questi anni hanno condotto una battaglia di civiltà. Una battaglia volta ad ottenere la sicurezza sulle autostrade e la riduzione dei pedaggi per cui noi continueremo il nostro percorso indipendentemente da chi sarà a gestire le autostrade. Siamo ancora in attesa di risposte da parte del Ministero che non ha rispettato gli impegni assunti. Non c'è stato l'incontro di luglio e soprattutto non ci sono stati mandati documenti richiesti per cui noi proseguiamo la nostra battaglia per i cittadini. Grazie 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 Grazie